nella storia ci sono delle correnti sotterranee che danno forma hanno contenuto e animano le idee che poi fanno la politica e creano i movimenti sociali sono correnti sotterranee e carsiche che qualche volta scompaiono qualche volta riappaiono ma hanno dato forma al nostro presente alla politica che anche oggi viviamo ai movimenti sociali alle rivoluzioni politiche culturali e umane in cui tutti ci troviamo immersi sono correnti difficili da riconoscere e che hanno una sorgente collocata tanto lontano nel tempo e anche nello spazio questo è segreti ed è un viaggio fra queste correnti sotterranee della storia che fanno le nostre idee siamo partiti nella precedente puntata dall'idea di uno scontro antico fra un ordine verticale che l'ordine della tradizione e delle forze che vogliono ribaltare questo ordine forze che giuliussevo la chiamava forze della sovversione allora cerchiamo di capire quali siano queste forze e che cosa si propongano e poi come abbiano agito nel corso della storia e da dove siano derivate storicamente non solo spiritualmente nella realtà dei fatti innanzitutto grazie dell'invito francesco un saluto a tutti gli spettatori il discorso della controiniziazione che di cui parla giuliussevo la reneguenon parte effettivamente da molto lontano ma nella visione esoterica questo dipende dal principio di dissoluzione continua del ciclo cosmico nella mentalità tradizionale antica all'inizio della storia all'inizio della storia dell'umanità c'è l'incontro con il divino e la storia in sé è un venir meno di questo incontro con il divino progressivo in altre parole l'uomo sia individualmente che come società si allontana progressivamente dal principio primo che regge la sua esistenza di conseguenza con progressivamente che la storia prosegue diventano sempre più forti queste forze della controtradizione o controiniziazione che dir si voglia come abbiamo già ricordato nella puntata precedente questa controiniziazione va vista come una conoscenza dei principi occulti nascosti esoterici che reggono il cosmo e la società umana ma un'applicazione dei medesimi che porti a degli elementi di squilibrio e di non centratura dell'individuo e all'interno di del suo posto nella società per questo appunto attraverso la storia autori come appunto evolo come genon riconoscono varie culture varie correnti di pensiero che si possono definire contro iniziati che contro tradizionali per evola infatti da quando viene meno la legittimità dell'imperium divino quindi innanzitutto con un passaggio dall'antica roma al cristianesimo e poi in epoca più moderna dal cristianesimo al razionalismo allo scientismo allo storicismo e quindi al culto della scienza al culto della tecnica ovviamente mettendoci in mezzo anche rivoluzioni socialiste rivoluzioni liberali e progressiste ecco secondo evo leghe non questi sono tutti i tasselli di una catena che soprattutto negli ultimi due secoli negli ultimi due tre secoli ha portato sempre più verso forze ctonie forze titaniche ciclopiche che rischiano di implodere da un momento all'altro e annichilire millenni di civiltà appunto che sono stati perseguiti attraverso il tempo anche ernest junger nella sua opera al muro del tempo che dal 1960 quindi ben prima di bauman da te menzionato nell'ultima puntata parlò di questa venir meno del nomos la caduta dei confini nel mondo contemporaneo e lui metteva in stretta relazione questo con l'uscita la libera uscita di forze titaniche di forze ctonie di forze quasi demoniche demoniache che proprio la tecnica moderna contemporanea ha saputo far uscire da questo scuro substrato ed è anche importante sottolineare come junger e anche lo stesso evola e lo stesso genon mettevano in risalto come nelle società tradizionali queste forze oscure titaniche ctonie erano tenute a bada attraverso il rito attraverso una visione che le comprendeva chiaramente perché sono esistenti ma che le teneva in qualche modo a bada sottomettendo da dei principi più elevati e ehm utilizzando ecco anche eh non so per esempio istituti come il il sacrificio oppure come eh la il per esempio il sacrificio di un criminale per esempio aveva una funzione catartica che eh permetteva di concentrare tutto il disordine di una situazione su un capo espiatorio e non sempre questo era un criminale per esempio era anche eh addirittura un sacerdote del dio un iniziato che si eh per così dire si sacrificava simulava per il bene dell'equilibrio sociale quindi ecco ci sono eh dei dei punti molto eh importanti da fare perché oggi in realtà questo sacrificio appare diffuso ehm non so se avremo l'occasione di entrare in dettaglio però è un sacrificio diffuso e non orientato ehm il discorso che chi viene sacrificato è una grossa parte della massa o addirittura la parte più intima dell'individuo di fronte a decisioni eh che tengono conto appunto di una massa liquida senza confini e senza nomos appunto come disse Junger. Questo è un discorso che ovviamente anche i intellettuali come Carl Schmitt parlando del nomos della terra mettevano in risalto eh Schmitt nella sua visione ha questo scontro fra la terra e il mare diciamo no fra l'ordine e il caos il nomos è la norma la regola è la visione verticale no tradizionale che impone questa regola come eh come fa il padre no e che traccia nella terra il il confine no il nomos è scritto per terra un confine sacro spesso no è un è un segno che viene fatto e che non si può avarcare e il mare ovviamente eh fa il contrario nel mare i confini svaniscono nel mare ci sono forze caotiche della profondità ehm poi ovviamente tutti questi elementi anche diciamo di eh immaginario archetipico hanno un lato in ombre un lato in luce per esempio l'acqua è sì la sostanza vivificante no che è associata ad esempio nella dell'immaginario cristiano a Maria che spesso ha un manto celeste per simboleggiare sì il cielo ma anche questa forza benevola del femminile e contemporaneamente però è anche appunto le profondità marine la furia dell'oceano dell'abisso no che trascina allo stesso tempo la terra è eh la la forma no il principio femminile rigoglioso creatore no che dà la vita e che permette di appoggiare i piedi su qualcosa di stabile per poi rivolgere lo sguardo al cielo quindi fare questo asse no tra la terra e il cielo e che è simboleggiato da dalla croce dall'incrocio no dalla dimensione verticale e di quella orizzontale e però contemporaneamente la terra è anche la profondità della terra la forza actonia il terremoto qualcosa che si scatena no di qualcosa di demoniaco e sempre se ci facciamo l'immaginario cristiano eh al di sotto delle profondità c'è inferno no ci sono le profondità infernali che stanno lì non per caso questo è uno scontro lo scontro tra queste forze che gli antichi avevano percepivano in maniera molto decisa e noi lo ritroviamo nella nostra società lo vediamo in corso no fra forze eh caotiche che in realtà hanno trionfato anche se non eh i più non se ne accorgono non ci fanno caso eh l'idea è questa che ci siano appunto come dicevi tu dei contro iniziati cioè persone che conoscono questo questa visione o comunque hanno questa visione del mondo ma eh che la stessa di chi invece ha una visione tradizionale però diciamo la adoperano per il male o comunque contro l'ordine stabilito eh dalla dalla tradizione e lo fanno ovviamente per il potere no per per il dominio per dominare le queste forze per dominare gli altri uomini c'è quest'idea nel pensiero esoterico sin dall'inizio che tutto che la magia sia modo di plasmare no di dominare la realtà che si possa utilizzare per il bene in qualche maniera no per essere in in comunione no con le forze con l'anima del mondo avrebbe detto platone avrebbero detto neoplatonici come ficino oppure per influenzare la realtà per influenzare gli eventi e lo ripeto non è importante che questo accada realmente potete anche non crederci quello che conta i fini della storia il fine del nostro viaggio è che ci abbiano creduto le persone che hanno praticato queste idee e che si sono riconosciuti in queste idee vedremo che sono tante nel corso della storia dai più eminenti politici agli scienziati a uomini che sono considerati oggi come Giordano Bruno simboli della del pensiero razionale contro le tenebre dell'oscurantismo in realtà vengono da una visione magica del mondo ma restiamo su questa contro iniziazione c'è l'idea che esista un gruppo di potere un gruppo di persone che vuole imporre una visione differente tu hai accennato nella nostra prima puntata a questo concetto di sinarchia di che cosa si tratta ecco sinarchia è un concetto di cui si parla nella prima metà del novecento e alla fine dagli ultimissimi anni dell'ottocento ma che in realtà è un concetto che tradizionalmente è esistito in tutte le società e le culture appunto antiche tradizionali sinarchia significa immaginare la società e il modo di gestirla come se questa fosse un organismo formato da varie parti da vari livelli interconnessi tra di loro è solo che ognuno di questi organi ovviamente ha un suo compito ha un suo modo di essere e per far sì che la società umana funzioni i suoi organi quindi le sue istituzioni le sue tra virgolette caste devono essere devono seguire dei principi tradizionali devono seguire appunto quei principi che non riguardano il mondo quotidiano ma che appunto stanno in cielo per così dire sono quei principi che secondo le società tradizionali informano tutta la vita e il cosmo stesso e quindi tu parlavi giustamente di forze contro iniziatiche in maniera satanica in maniera demoniaca ora se noi andiamo a studiare l'etimologia di satana c'è proprio questa idea di dividere di separare delle cose che dei piani che invece dovrebbero essere accordati tra loro interconnessi come se fossero una sinfonia l'idea della sinarchia appunto si basa proprio sul su questo scopo ideale su questo desiderio ideale di riportare la società contemporanea ormai caotica al massimo livello e pensiamo che già questo era compreso a inizio novecento fino ottocento a una sorta di purezza originaria in base al ritorno appunto di queste dell'idea della società come formata da vari organi che devono collaborare tra loro che sono anche gerarchicamente sottomessi uno all'altro invece appunto il satanismo per così dire l'etimologia di satana fondata sul dividere lascia capire che queste questi gruppi di potere contro iniziatico che hanno sempre più potere da qualche secolo a questa parte conoscono giustamente come dovrebbe funzionare una società ideale secondo i principi sacri ma tendono invece a dividere i vari organi a fare in modo che a ricoprire una determinata funzione ci sia una persona che non è in grado di farla per sua natura quindi anche qui c'è l'idea che anche non solo la società ma proprio il singolo debba essere inserito in questa sinarchia al suo meglio da qui appunto l'idea delle caste che oggi può sembrare un'idea sorpassata ma non ci rendiamo conto che le caste esistono sempre anche se non le vediamo e il discorso è quanto siano tradizionalmente orientate oggi le caste il discorso di cui si legge addirittura in testi sacri di 3.000-4.000 anni fa come quelli vedici dell'antica india è che il Kali Yuga il mondo il mondo moderno possiamo dire il ciclo oscuro è dominato dalla casta degli Shudra e questi Shudra sono i mercanti sono una piccola casta di mercanti che comandano su una massa indifferenziata atomistica e quindi le caste come possiamo vedere esistono e sono esistite in qualunque epoca del mondo in qualunque società sta a noi poi vederle capire il funzionamento della società e capire quanto effettivamente chi comanda insomma voglia portare la società verso la divisione verso il caos oppure verso invece un tentativo di ritrovare un minimo ordine anche nelle istituzioni sociali e politiche e allora per questa puntata ci fermiamo qui abbiamo introdotto questo concetto di sinarchia che per alcuni autori indica qualcosa di assolutamente negativo cioè di una specie di tentativo di formare un governo mondiale è un concetto che viene espresso da Saniv Dalveidre che insomma è un autore molto importante per l'occultismo e invece dai pensatori diciamo così cristiani è molto avversato cioè c'è l'idea che sia esso stesso un modo per pervertire l'ordine della società creare una sorta di grande gruppo di potere nascosto che influenzi l'andamento dell'umanità ovviamente a seconda della parte in cui ci si colloca in questa in questa lotta in questa visione cambia la percezione però questo è il quadro dello scontro che stiamo raccontando questo serve a darci un contesto del mondo in cui stiamo entrando mondo che delle radici storiche molto precise e nella prossima puntata cercheremo di vedere come e perché queste forze diciamo così sovversive dovrebbero agire nel nostro mondo